Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi video recensione ho fatto il mio solito check, in questo periodo ho provato un sacco di cose nuove che ho ricevuto come regali ho acquistato io stesso e qualche provina che sto testando e quindi ho diverse cose da dovervi recensire che sono alcuni prodotti curiosi, altri la standard, altri buoni, altri meno in questo primo video vi vorrei recensire dei prodotti proprio di make up qualcosa per la base, qualcosa per gli occhi e qualcosa per le labbra allora inizierei dal prodotto che ho da più tempo e che sto testando da più tempo allora partirei da questa matita per gli occhi nera della linea di Giorgio Armani la matita si chiama Sleek High Pencil è una matita per gli occhi in colore 01 black questa matita era abbastanza lunga, secondo me era almeno così la sto testando ormai da fine estate, se non erro, poco più, forse settembre e la odio, non mi piace per niente la matita è fatta così credo che, non so se è uscita fallata la mia o questa linea proprio ha la struttura che avvolge la matita stessa molto rovinata e non riesco mai a fare una bella punta questa l'ho appena fatta, guardate in che condizioni è terrificante è una matita che non rimane all'interno della rimacigliare né superiore né inferiore e non scrive benissimo non scrive tratto nero ma bensì all'interno dell'occhio scrive un tratto grigio è molto morbida questo è il tratto sulla mano che è lo stesso tipo di tratto che si può avere sulla rima superiore quindi come tratto di eyeliner ha una tenuta come se facendo pessima come linea di eyeliner è molto sfumabile quindi si può fare quell'effetto molto sfumato carino, soft, carino per il giorno ha una sfumabilità eccellente ma come vi stavo dicendo diventa grigia più che rimanere nera ne voglio sfumare un pezzettino qui finale giusto per darvi un po' l'idea l'ho sfumato giusto la metà rimane questo grigio marroncino non tanto carino sinceramente io tante volte quando la sfumo è perché sopra poi vado ad applicare degli ombretti scuri per poter creare uno smoky come base per gli smoky non è male probabilmente perché si sfuma facilmente quindi poi rimane comunque un grip dove poter agganciare poter applicare il prodotto in polvere ma per il resto no, non vedo l'ora di finirla sinceramente un altro prodotto assolutamente no peggio di quello di prima è questo mascara della Cien non so come si pronunci acquistato a Lidl ed è il mascara waterproof black sono 10 ml è un mascara che promette volume e promette nero perché se si chiama waterproof scritto gigantesco con un black sotto io mi aspetto comunque un buon mascara che mi dà un bel volume e mi renda le ciglia nere assolutamente no questo è lo scovolino di questi cicciotti così, abbastanza classico allora non volumizza non colora le ciglia nere non fa effetto ciglia piene l'unica cosa che promette è che mantiene il fatto di essere waterproof quando lo utilizzo e se mi dovessero lacrimare gli occhi non mi sono mai trovata con puntini di mascara eccetera in giro per la faccia o puntini di sbavatura almeno questo dà un effetto io lo considero perché non si può utilizzare se non come un effetto molto giornaliero io lo utilizzo da solo in due passate che regge la seconda passata almeno questa cosa di giorno già il pomeriggio o se dovessi uscire in metà mattinata non mi piace l'effetto è troppo naturel e quindi vado su con altri mascara che ho top coat eccetera non vedo l'ora che finisca non mi è piaciuto per niente poi un prodotto per i ritocchini queste salviette asciugasebo della linea Shaka quindi acquistabile da OVS sono 100 salviette se non sbaglio sì 100 fogli questa era una limited edition di fine estate anche questa se non sbaglio la linea si chiamava My Beauty Routine prevedeva tutta una serie di strumenti per avere un bel aspetto ho provato le Wonder World Peps ok sono semplici salviette grandi quanto la confezione se non un po' più piccole che fanno il loro sporco lavoro asciugano il sebo lasciano un aspetto opacizzato al viso se ne riesco a tirare fuori una scrivete questa cosa del dito è una cosa discussosa ma non ho altro modo se non eccola qua ovviamente c'è una parte questa che è quella che asciuga e questa è la parte che non asciuga il sebo sì mi piacciono anche se le mie preferite sia per modalità d'uso grandezza eccetera rimarranno sempre quelle della Kiko perché oltre ad asciugare il sebo hanno anche un vero discipula quindi aiuta anche a mantenere il fondo tinto comunque la base però comode piccoline le butti in borsa e ci sta benissimo un altro prodotto della Shaka è una matita per le sopracciglia con il il tappino con questo pettinino sfigatellino mi sistema le sopracciglia allora è in colorazione mi sembra la più chiara 601 light sì la più chiara è una matita molto dura il colore è rossiccio è questo quindi è un pochino rossiccio per me che ho le sopracciglia comunque che tendono a rosso non me le non mi rovina più di tanto il sottotono perché comunque è molto similare alle mie sopracciglia ha una durata buona io ho queste le ho fatte questa mattina alle 5 e mezza 6 e meno un quarto sono mezzogiorno e 15 e mi sembrano ancora buone come come sopracciglia perché io vado a colorare questa zona e a ridefinire qualche eventuale buchetto che dovessi trovare qui e là rimangono ben in piega non si sfalla il colore non cola mi è piaciuta un'altra matita questa volta però per le labbra è una matita della Rougi si chiama Nudely Pencil 12 ore qualcos'altro no è un nude è un nude molto simile al mio colore di labbra forse leggermente rosato ma non più di tanto quindi anche in questo caso non mi come posso dire non mi modifica troppo il mio sottotono di colore di labbra quindi mi sta piacendo abbastanza è abbastanza dura quindi c'è un attimo di difficoltà nello stenderla è abbastanza secca io di norma nel mio beauty ho una sola matita che utilizzo di solito come base labbra sulla quale andare ad applicare qualsiasi tipo di colore che mi piace in questo momento ne ho ovviamente altri due colori diversi un arancione e un marroncino però di norma nella mia beauty routine dovrebbe esistere una sola matita color carne che io utilizzo come base sulla quale vado a ovviamente mettere qualsiasi altro colore perciò preferisco una matita che non falsi troppo il mio colore di modo tale che il rossetto che poi vado a mettere sopra rimanga il più fedele possibile sui miei tratti non so se mi sono spiegata facciamo un esempio allora io ho un sottotono tendente al al giallognolo quindi sono un sottotono sul giallo non sul rosa neutro tendente al giallo quindi anche le mie labbra ovviamente rispecchiano il mio sottotono di pelle e se vado con una matita che è troppo fredda che io voglio utilizzare come base quando poi su vado a applicare un rossetto viene sfalzato rispetto ai miei colori su un sottotono differente di labbra e quindi fa troppo contrasto non importa tanto il colore del rossetto quanto riuscire ad avere un match perfetto con la matita non so se sono stata chiara nei miei vaneggiamenti delle 12 e 20 comunque come base è molto secca quindi ci vuole un attimo per poter disegnare il contorno andare a riempire però una volta messa non si muove perché è veramente molto secca quindi come base mi piace tantissimo l'ho provato ovviamente come contorno quindi solo come contorno utilizzo classico sia con i rossetti che con i luci da labbra e visto che è così secca sia con l'uno che con l'altro fa una buona barriera di confine non fa migrare nessun tipo di rossetto cremoso liquidoso eccetera al di fuori del contorno provata da sola senza niente sopra forse lì la situazione cambia nel senso che è troppo veramente troppo secca da poter digerire credo che sia più un effetto che può ricordare una tinta labbra quindi non è confortevole ovviamente se la metto poi su di tanto in tanto vado con un burro cacao per riuscire a mantenere un aspetto idratato alle labbra ora una provina di un prodotto di è un fondotinta mi usciva allora questa avevo due provine di questo fondotinta della Clara non si doveva pronunciarsi non mi ricordo è la nuova linea Skin Illusion che è uscita mi sa nuova linea è uscita mi sa la primavera scorsa hanno un range di colorazioni infinite secondo me ci sono almeno 50-60 colorazioni non so il prezzo ma questo fondotinta fa paura mi piace tantissimo è un fondotinta con gania genia non so come è questo non so che cosa qua all'interno genia rouge red comunque ha un spf 15 io ce l'avevo in colorazione 110 honey quindi leggermente più scuro leggermente almeno un tono un tono e mezzo più scuro del mio colorito però si riesce a fondere in modo perfetto quindi questa differenza di colore di tonalità di colore dopo un po' non la percepisci più perché si fonde veramente in modo bellissimo con il tuo viso e non si sente strato non si vede spessore è veramente un prodotto leggero e mi è piaciuto non so quanto costa ma mi sa che uno sforzo economico lo vorrei fare per questo fondotinta si chiama fondotinta idratante effetto naturale spf 15 veramente mi è piaciuto tanto in due confezioni da da un millilitro e mezzo ci avrò fatto 5 o 6 applicazioni forse anche di più secondo me sono 5 o 6 massimo 7 dai veramente molto molto bello poi ha una durata buonissima credo che il massimo che l'ho tenuto su 5 o 6 ore aiuto e me le ha fatte tranquillamente tutte l'ho steso con le mani di solito non so se vi ricordate cerco di fare tutte le possibili combinazioni di applicazioni per darvi per me quella migliore però non avendo tanto prodotto mi sono tra il vetto accontentata della mia applicazione mani che per me è l'applicazione migliore e con l'applicazione mani veramente bastano pochi puntini lo spargi e si è a posto mi è piaciuto tantissimo una finiamo questa carrellata di prodotti beauty per il trucco con un altro semi flop e questo prodotto della cargo si chiama liquid power the effect of loose powder praticamente è un prodotto che da cremoso diventa polveroso quindi diventa una polvere io ce l'ho in colorazione light medium 01 ed è una confezione da quanti ml oh mamma ehi tu da quanti ml sei? 28 ml allora quindi è un prodotto che andrebbe utilizzato si potrebbe utilizzare da quello che descrive il retro copertina allora può essere utilizzato sia sotto che sopra il make up contro la luntuosità del viso per un effetto tono su tono da look molto naturale ho letto ho tradotto un po' pedestramente dall'inglese non sono una scima però si capisce quello che c'è scritto allora io di solito questo tipo di prodotto che ora dimostro così a prima vista sembrerebbe molto scuro per il mio incarnato ma ovviamente andandolo a sfumare ora lì ho messo una squintalata andiamo di sfumarlo solo su un lato per vedere poi la differenza già così e io già sento ovviamente il sentore di che il prodotto si è trasformato in un prodotto polveroso sento proprio la polvere sotto le dita non so se si riesce a vedere la differenza di livello di opacità della mano da un lato e dall'altro da questo effetto colore salo tono su tono che migliora l'aspetto del viso e all'interno ci sono secondo me un po' troppo troppi glitter troppi brillantini che rimangono forse la prima volta che lo indossai il mio fidanzato mi disse sei diventata una twilight che cosa hai visto in faccia dopo poco questi brillantini credo che cadino perché non si vedono più ad esempio questo ce l'ho ovviamente dalle 5 e mezza questa mattina non ce l'ho più sul viso i brillantini però all'inizio rimangono abbastanza fissi credo che dopo un paio d'ore vanno a cadere da soli allora l'ho provato ovviamente da solo ok solo questo lo sto mettendo tutti i giorni per andare al lavoro e ha un effetto bello nel senso che ti ti dà questo quarto di tono opacizza il viso ti rende comunque il viso un pochino più accettabile e ha una discreta durata scusate la brusca interruzione ma si è scaricata la batteria quindi l'ho dovuta un attimo sostituire avevo comunque finito di registrare tutto il video ma devo riprendere l'ultimo pezzo del discorso quindi stavamo discutendo dell'utilizzo di questo prodotto allora da solo ok buona durata bell'effetto nessun tipo di problema visibile o tattile mi è piaciuto seguendo le indicazioni l'ho provato ovviamente sia pre trucco che post trucco come cipria su un fondotinta è inutilizzabile perché il prodotto di per sé è ovviamente un liquid to powder cream to powder non si può usare come cipria fissante perché scioglie il prodotto liquido sottostante lo provai durante le feste di Natale mi truccai e poi andai a fissare le mie varie creme quali il correttore il fondotinta eccetera le volevo fissare con questo prodotto giusto per provare non lo farò mai più messi puntini sul viso cercando di spargere il prodotto in modo tale da coprire la superficie del viso più lavoravo il prodotto più il prodotto si miscelava con il fondo e diventava una pappozza terrificante che mi ha sciolto tutto mi sono dovuta struccare rifare la base come prodotto sotto il fondo quindi come primer indescrivibile nel senso che ti lascia sulla pelle questa sensazione di ciprioso che però non aiuta a far aderire bene il prodotto cremoso che ci vai a mettere sopra quindi come primer mi fa l'effetto contrario mi fa letteralmente scivolare via il fondotinta anche in questo caso mi sono dovuta ristruccare per poterlo per poter uscire quindi mi sono dovuta ritruccare quindi un prodotto utilizzabile da solo per un effetto diurno discreto buono per il resto non vedo l'ora che finisca video dei prodotti recensiti di make up provati dell'ultimo periodo finisce qua ti ricordo che se questo video ti è stato utile le recensioni di questi prodotti ti sono stati utili per evitare qualche cantonata di mettermi un bel pollice in su se ti va e non vuoi perdere tutti i miei video ti puoi iscrivere ovviamente al mio canale e se vuoi rimanere aggiornato se sei già iscritto c'è sempre ovviamente la possibilità di attivare la campanella mi sembra una cantilena però non funziona quindi io ti abbraccio ti mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazze in gamba